Posteriori da noi puoi smettere. Saluto al ciui carici e istantui, c'è anche ospectantui del registraggio, che vi vedo, è stata la 10a ILEI Forum in la 6a del maio 2022, c'è la temo di tutti i forum è stata specializzata in instruzione di esperanto, e lau diversi lingvoi, kulturoi e regioni. Per incontruire il prelego, vi invitiamo il professor, Ilona Kutti, e mi chiedevo di cominciare il prelego. Grazie, Ilona. Grazie. Ora vi vediamo il mio avviso, ma mi deve aspettare ancora un po' di video. No, vi potete dividere. Grazie. No, vi potete dividere. No, vi potete dividere. De Esperanto mi pensas che mia inconduca prelego, e non mi speras che mia inconduca prelego, e igos vin discuti poste. La temo è stata stragrande, trogrande, per un'oro che è molto in flanco, e Esperanto è in volvo, e se mi cominciò a discutere, ciò d'oro suffice lunga. En conduce mi chattus diri qualche afferro in nome, che mi buoni sia sciui, che l'enhavo e il metodo di instruato dependano molto, dependano della cell gruppo, del suo agio, della livello della parte plenante, di ciò ciò mi instruo al homogene gruppo, del unolingva gruppo, o al internazziare gruppo. e dependano anche della cello, che non mi volano a tingi per niente instruato, che la studenti può più buona parola, o simplici compreni texti. e dependano anche della gepatra lingvo, che un metodo ne usano. compreni con le condizioni che mi instruo, in l'euro, in corso, o in intensa sommera curso, è stato grave. influa. Donne al tiui esperanto estas same facila. Mi stias anche un processo in lingua lernata, che la conata in lingua influa, che el ni povas lerni la novan lingua. Doci tion ni devas preconsideri che parolassi per la facilezza di esperanto. E in potere che io stas facilezza, mi povas sion demandi. Dio stas iu tre simpla nozio, tam e tre mal facile defini. Mi pensu per la nombra dei reguli della lingua. Mi pensu che onde escepti estas in la lingua, e mi pensu anche per la proximezza della nuova lingua al la lingua della lingua lernanto. Nur mensi la plei gravi in afferroi, che li povas influi, e piom grade la lernata lingua estas facila por la concerna lernanto. Cai non ne vidu lautiui di tre basai aspettoi, che l'aspecto è esperanto. Esperanto havas regoloni buone con assilin. Estas plurale l'esperanto, cai calca, e ci mi diros estas complicai. Penso pri la alta ita problemocine, che in pratica non condukasciano più complica nonni, che ci havas in in iam gepatran lingvon, e proprio ci causas problemon. Do certi nombroni da regoloi ne devas conica e buone applici. Esperanto ne havas escepti, in cio ne cucime diras, sed tamen ne devas calculi pilatia nomata enlexiquillo. Tio signifas che exemple lerneio tio ne estas simple ello kia oni lernas, kia ni arregulo kia onde finas, sed adonijas iu specifas signifero estas instituzio kia ni lernas. Cinecai esame ce tranquilo ne estas utime ni usas trancilon portiu ilo per kio ni manggas kai ne nepre portiu iloi kio trancias. Do, se ni usus nur la regulo kio ni havas ne nepre ni giuste usus au giuste comprenus la aferroin. Ni devas anko tion bone compreni. La secva aferro estas ca la vorto proviso de esperanto estas europ de vena. To comprenible por europanoi ki parte tion vort proviso conas estas pli facile. Ol por tiui kiui ne conas tion vort proviso cial logias en asio cial cio vorto estas complete nova vorto. La productiva vort parado estas de nove kio estas positiva ferrodo problemoi ca similex al naturai lingvoi tai anko sur base de tion articolo cu facile lingvo facile lerneblas cio estas en la festo libro de Renato Corsetti ca semi bonere memoras ambau articolo trovijas en lareteio de la interlinguistica studoi. Ego ni comenzu per la istruado de el parolo. Ja, sentio ni ne povas paroli ca ni ne povas comprimi la alian. Esperanto havas simplan averagian son systemon. Sed tamen existas problemai sonoi cio la ebla sonoi cio lingvoi electas ian arond sonoi ca in Esperanto existas ca tiai sonoi cio por cio signifas problemon. Ni bona conas la problemon de ro cai lopor japanoi aula vocai sen vocai consonantoi por cinoi ec por la francoi cio ne anka en europa est as problemo cio por ili pronunci buon scienza oro est mal facile pronunci cio o cio La seconda problemo è l'apero dei plurai consonanti cune, che di nuovo causano problemi per i japani, perché la lingua costruisce il sillabo, che è la struttura del consonanto vocale. Do pronunci strato e il vero proviso è molto facile, mi devo servire. Se mi attenta, mi scribe e dire il vero proviso, per che è più chiaro, per la struttura e la parola più legge il vero. Con il phonetico, l'accento è la seconda probleme, per chi l'accento è fixato in ogni luogo del vero o in esperanto. Do esempio per i franzoi. In fact, mi devo spiegare, perché presento i interessanti prelevi, c'è la franzoi parola, esperantone, c'è la metanta, l'accento è la struttura, e la unica sillabo. Do, e c'è la hungaro, c'è la esperantone, l'accento è la unica sillabo. Do, se oni ne ben lebon regas la lingua, oni faras tiun eraro. Se oni instruas gruppon, chi è stas homo e l'ununazio, accompagnabla, ni povasse concentriggi al tiui problemi, tai fari prononce exerzoin. C'è ne nur prononce exerzoin, c'è danca auskulteble exerzoin. C'è ne, c'è ni auskultu ali lingvanoin, chiamili parolas. Ja, verdire, ni havas iun articulazian, bason, c'è janko perceptan bason, c'è il formigias la unica ge patra lingvo, c'è tion ni devas peini, che ni povu bene el paroli allian lingvon, iu sense mal lerni nian lingvon, in ciù, c'è fari il conscia la homo, in che existas alliai regoloi. Nun, ni vidu la grammatical strukturon, d'esperanto, tia estas plurai problemoi, ma grau la regulezzo, c'è tia nomata facilezzo d'esperanto. La accusativo. Estas problemo por tiui, c'hiu ne havas en la ge patra lingvo, tiuon cason, c'è tion ni povas vidie, c'è buonai parolantoj ofte tiu aperas, che mankas la accusativa finažo, c'è tion qui onestas en mia lingvo, ni devas iel conscie realigi en la alia lingvo. Cai tiuon ca pro tiuo ne estas tiuom simpla, chà unu velab, problemoi estas anco kiel defini, kiam iu verbo havas rectan obiecton, dope zonas la reptio havi accusativan finažon. Despli mal facile estiu defino, già è un differenzio interlingui. Exemple, in esperanto questo è il verbo geni iun è un transitivo verbo sed che è il clarigice, ad esempio in la pola geni al iu. Ne è un evidente senti che necessitava la accusativa finaggio ed se ogni havas iuntian in la gepatra levo. In tutta la transitivetso kai netransitivetso di verbo è anche il baso problema. Fattati e tion ogni devas lerni con la verbo kial ogni devas lerni anche la signifon della verbo kai se ne è un differenzio in iu lingvu esempio in la angla change something kai something changes. Edo est est la sama verbo kai denove est iu exerzo multe da exemploi che iu povas helpi ciam la verbo est transitiva in esperanto kai kai ciam ne. E oco in tiui lingvoi kiui havas tiu differenzion povas esti problemo se in esperanto ne est la parallela strukturo. Mi ofta augdas in esperanto che anstata movi oni parolas movigi cioè ne oni movigas la tablon ne siample oni movas la tablon charia movi est transitiva verbo kai el tiui povas fari ne transitivan verbon per la ige suffixo. Fakta tiu elementu est dependas della denove mi revenas alla basa signifo della vorto kai est ni prenas verbo kiu signifas tutta la samon oni povas vidi differenzon penso pri la verbo disvolvi oni povas disvolvi la capablo in della lernanto et io est basa verbo kiu est transitiva sed se ni usas alian verbon evolui jine est transitiva dopo esprimi la saman aferon mi devas usil la ig fin ajion kai tie evolu igi est sam signifa kiel disvolvi e kai se ni prenas netransitivan formant jiam en caso de evoluigi est jiam la netransitiva kai disvolvigi i i c'ne personas id por esprimi la saman aferon no i kai i verboi c'ne tiui dependas de la basa signifo de la verbo kai tiio cauzas multai ma facilajuin por divers lingvanoi agordui dependas čio esnes plurai tabloi av plurai sedžoj av nur unu t'io esnes clara reguro sed tamen oni devas pri t'io pensi kiam oni parolas t'io iu sense povas mal facili la lingvon la sintax strukturo povas šajni simpla tamen gipo vas esti mal facile exemple por koreo bac givan pri t'io parolis ca iscribist che por koreo t'io vort ordo est iom mal facile kela complementoi venas pos la basa vort la viro sidanta sur la benko kai net iel sur la benko sidanta viro kai en la korea preferet iu est anta u la basa vort kai in esperanto la bona stilo est kai est prefere poste yes do vorto proviso kai ie ni vidu ciou kion ni faru ofta ni diras kai ni instruo unu la internazia in vortoi kai tiam moniam tui avas iun bonan alirona la lingvo ke ni multa comprenas set tiam ne validas por ciui tiam validas por ni europano il sonano cion charla internazia i vortoi cial nacio biblioteco bona granda paroli vene kai tie et lu tiui est as vortoi e kiui est europ deven la tiel nomata internazia vortoi est as prak tic latinida vortoi plei oft adon ne nur europa est cefe latinida vortoi kai tio est buona comenzo se mi instruas europa lingvanoin kai charon iam pui spertas kai ni comprenas sperant ni pobas per tio comenzi sed en asia landoi versaine tione est tio simple la alia ferro ke la vortoi havas signifon kai cium signifon ili havas et io amkau facta casa de esperanto devenas de la hindoeuropae lingvoi est as tiui signifo dividoi kia tia mia satata exemplu est arbo kai ligno kio por multa el intervi est tut evidenta que est mal sama vorto sed de ne por ciui por hungaro est es nur un vorto ja effektive oni elhakas la arbon kai postelti oni faras la tablon cio do kial alia vorto ciui dividoi est escutimai en europa lingvoi cio ne la franza en angla en la germana cio ciui vortoi existas anka la familia e rilatoi sec vast la cuciman rilato en la familio en la hindi europa contexto do frato fratino gaitial plus sed existas aliai sistemo cio fena asiai lingvoi cio la agio estas la unua dividino inter la basai vortoi cio 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 la hungara cio estas ind europa lingvo cio esas mia ge patra lingvo ce i un est cio 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 la unua divido de la basai vortoi estas la aula agio cio 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 fratino cio 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 mali una frato same la coloro cio 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 l'Ernanto in cune, perché io stavo in questo mondo. E ora ci siamo prossimi a la cultura. E mi buona sia che la lingua e la cultura sono molto intime interrelate. La cultura che rispeglie in la lingua. E noi esperantissimi vengono a diversi culturari. C'è una cultura che rispeglie in tutto. C'è una lingua che insegna la lingua. C'è una lingua che insegna la lingua in frasemologia. Rompia la capa, lavia la mano, staria la demanda. Ma non possiamo dire che la lingua è la lingua. La lingua è la lingua, la lingua è la lingua. Perdi la capon, c'è tia il plù. Vi povasi trovi tia in esprimo in la libro di Sabina Fidler, illustrita fra zeologio. Teter, si multa occupigis pritio temo, c'è avas interesse in studo in pritio. Mi alvoca anche l'attento all'articolo del Renato Corsetti, in la lingua che ho donato nel passaggio di Sabina Fidlero. C'è tia anche lì distingue molti elementi, come la Hercula Laboro, Ariadna Fadeno, c'è tia il Venuso. Per la parte molto interna, è comprensibile. Non è comprensibile per l'Africano, per l'Asiano, per l'extere Europa. Ia tia i elementoi basigas sur Europa kulturo. Basigas sur l'antiquetso ecai sur cristanismo. C'è ne lavi assi la mano, Pilato lavis assi la mano, c'è ne, c'è ne, c'è antemis pre Christo. Au Hercula Laboro e l'antiquai tempoi vena, anche Ariadna Fadeno e c'è tia. C'è molti esprimei che non sono in lingua. Non è molto molto che ho usato, ma anche ho usato, ma anche ho usato, anche in letteratura. C'è un istru, o che è un'esprezionale Europa kulturo. Mi attentigas fin all'articolo d'Arco, d'Xiaofengong, el Cineo, c'è la sama mensita libro, c'è stas agirebbero in la reto, pubblicisam cao articolon per la differenza intercinoi e europanoi. c'è stas agirebbero in la reto, alla Cinae studentoi. Però tioni povas discutit, c'è effettiva, tion Cina studento devas coni, c'è ciò vera, tion grade, nia Europa kulturo, in flù esperanto, c'è, c'è, multe mal prì, la Asiae kulturoi influas, c'è, mi ancorament si estia la proverbo, in fiù estes ancao Europa devena, la proverbaro del Zamenhof, c'è appartennata a niai bazai documento, c'è, est demandos gnebla, c'è givera, estes parto d'esperantoio, car granda parto d'e tiu proverboi, qui appara en proverbaro, s'è traducazio de Europa in proverboi, c'è ne proverboi, qui effettiva estes usatai en esperanto. No, calcai plei conatai, qui en plura Europa, landoi, aperas, ti vi aperas de tempo a tempo encore en esperanto, sed di granda parto d'e tiu proverbaro, ne. Mi ancorament si as un terrenon interessa, nomela simboloin, qui vi same en estes, en la lingvo, qui en ni parolas, infacte, ni usas simboloin, car jomco tiu estes maesamai en diversai mondopartoi. Ciu, oni comprenas ciu, 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 Igis Eva mangi, ella, po modo per ruzezzo, captis, sin, sed, dio, me, estas, la caso, en, ne, cristalnai, kulturoi. E, ca jo ni povas daurigi, čo vere le poro estas mal curađa por cijui nazijo, čo ni povas sion compreni, au čo male, mal pura porco. Chia mi habis ankao, io miris, che io coreino, čo ne, habis en sia ret adreso porco. Chia, čo ne, porco, por ni multai, li diges ali vi maldecai aferoi, mal puražo, kati el pludo, ne, positiva aferodo, kiu havo si on tijan, en sia adreso, sed, en coreio, porco giuste, estas simbolo della bon farto. Čo ne, ca tijam un iam comprenas la aferon. Per tijui simboloi ni devas tre atenti, čo ni usa silin, čo ni instrua silin, au ne, kiuom grade ili trajta sesti en esperanto, au ne. No, kaj, fatem iam finostui. Entuta ni povas demandi kiuom grade instrui kulturon. Čo ni povas, entuta ne instrui kulturon, ni povas pitio anko diskuti. Čo ni, en tuta ne eblas, ne instrui kulturon, ja, tijam mediris kulturo kaj lingvo esas ligita. Tai vola ne vola gi reflektigas en la lingvo, do tijal vola ne vola ni ion instruas. Sed, in esperanto, ni povas habila demandi kiuom internazijan kulturon, ni instruas kiuom nazijan kulturo, in kiuo influas ale esperanto, ki est as esperanto centrui, exemple. au ni uzas, ni instruas l'esperanto kulturoon, kaj tiepri krokodilado, kaj mojosa eventoi, kaj similae aferoi, ni povas paroli. Kio dependas anko de la contextu kiel ni instruas, kaj anko de la nivelo. Kaj por fini mia presentu, mi facten un legas, la concludon de mia articolo pri facilezo de esperanto. La planita malalta complexezo de esperanto conservigis en la grammatica nivelo dranca la norma rolo de la fundamento de esperanto. Sed la semantica complexezo crescas prun la pli largigio dell'aborto proviso kai procesoi ki ocasas dum la natura uso de la lingvo. Demas pri metaforigio, fraseologiagio kiem imensis, tamen la lingvo estas gran parte tra videbla pro la usado en internazia parolcommonumo. La regula sistemo, kai la produktivo de la reguloi, grave contribuas alla facila alproprigeblezo de la lingvo, sed calcai malfacilajoj por diversa lingvanoj restas neviteblai. Do, per tio mi finas mian contisan prezenton, kai mi proponass per ni revenu al diversai terenoi, kai vi adonu vian opinion, se vi consentas compenebleg. vi povas aviancou demandon almi, cai compenebleg vi povas commenti per alia afero. Do, mi prazdonas la vortuna albio, ni povos discuti pri la, el parolo, c'u ne kion metodo in vi usas por instrui el parolon, kion vi pensas pri la sistemo desperanto, kai tiedlu, au pri aliai aferoi. Do, bo, volu. Es, danke, Ilona, danke, es ist ege interesa prelego. Pod mi mem, es digis multain commento in au demandoin, sed mi lastas la privilegion, prioritaton al aliai gastoi, do, se iu havas commento in au demandoin, bon vole, levi la manon au schalti la mikrofonon kai paroli. Do, eplemi me, ah, yes, allen, bon vole, allen. Ilona, vi parolis pri du articoloi ki un vi skrivis, su mi boni comprenis che ili estas aveblai ce la interlinguistica estudoi, o? Yes, en la reteio de la interlinguistica estudoi ki un, et cetera, allen, finis, ciune, sed ancora un taul tivi articoloi nascigis, ca il articolo pritipologio aperis liam anglais kai france, sed en la reteio estes en la esperanta formo, ji aperis en aliroi all'esperanto, et io estis l'academia volumo, cia mi publicigis, esperante, ca iu facile, ciua facila lingvo, facila lerneblas, e tion mi publicigis en la fest libro de Renato. Sed la umianco a tio estes en mia reteio, la unua, certe, estes la dua mi devos controlli, ciua mi metis gentia. Do, suffice as iri all'areteio, esplorvi, ca iu ni trovos. Yes, do tia estes publicagio, ciunevi vidas super, satelami alcivi proponas che visitu la reteion della interlingvisticae studoi, car tia non estas grava afero, nome, prila, novai planatai magistrai studoi. La adreso estas interle amu edu polo. Ne sači vi ancora vidas mi an ekranu, ne? Yes, yes, ni vidas. Yes, interle amu edu pel, ca i cia vi provas trovi anco diversi articolo, sedet, iu in magistrai studo certe, eble. Yes, anco, en babileio vita ceslau, metis la adreson, preta adreson pli detala, danko. danko, buvole. Buvole, mi volis attentiki priprononzado, car, gius men si, stilam, che mi havos kolegon, antavan kolegon, kio estis faculo pri la instruato della angla lingvo, ca li assertis, ca ni povas instrui prescao perfectan, denascan prononzo della angla lingvo, se non sias, cio ne, cio ne, conduci la lernanto in altio, ca mi trovis tamen, che la prononzo estes tre individua, estes homoi che vi povas imiti, facile, ca captas tui, aliai tutene, do oni devas fari multe da exerzoi pri kie metti la lango in la lingvo in et cietil plutiume, ca mi volis demandi alla gruppo kio om gravas la prononzado, char, antau, eble, quardeco da iaro itio estis un, o la cefai aferro in kio non faris in lingvo instruado en usono, sed, ne plus, oni multe occupijas priprononzado, ca en la academia esta seccio priprononzado, kio ne stras probaldas gupta, sed, li credas che ne stras vera granda laboro por ni fari por tio, ca mi ne sias chum mi consentas, mi devo seble iom pli paroli priprononzado, sed, tamen el instrua vid punto, kio om gravas premi pli pri la prononzado, por ke la aliai esperantistoi ne havu tion da comprensargio auscultante tre fremda in prononza in tion, stas por mi interesa demando. Se Ilona ne havas commento tu aliai con po le nio che facta unifari san ka esplor in che por denas kaling vanoj la prononzo estes la ple grava se temas pi fremda parolanto ne pri esperanto generale oni volas esti plinatura en iu fremda lingvo tion oni devas usi bonan prononçon tion espli grava ol grammatiko sed en esperanto facte la prononzo ne faras ti un grandan problem la omichare oni ne almenas al alia vorto kiel en angla se oni iom alia prononces vorto povas trafi tute alian vorto kaj alian signifon kaj kiel danken men si is nun tempe onkau kaze de la inglese z lingva franca morado em fazas ke do ne tiom gravas bone prononci cune oni prononcu tiel kiel oni povas kaj pripacila oni povas propriegi la anglan sed el esperanto do mi dirus kenela plej grava ferro set tamen por se volas bone paroli tiam devus iom strebi e pli bone prononci la lingvon se oni comparas con angla kaj kaj alia i frem dai lingvoi infacte oni povas lerni la bonan prononçon la prononçon della ge patra lingvano se ju est sute una do es diskuto i pritio cune 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 adolesca agio povas alpro prigi la bonan prononçon poste jam never edo se oni comenzas lerni lingvon en pli grande agio kiel est es la caso por esperanto est siam mal facile tutte bone lerni la prononçon sed jane est stiu diferenzo kiel ce alia lingvoi kiel oni ciam povas bone distingi kiu est sladenasca lingvano kiu est la lingvo lernanto caren esperanto nici vi est lingvo lernanto ne considerant tim incel kain den as kulo in kiu kuti cac lernanto est humot esto é TO PES ma non ne pregavano priorità, non ne pregavano. Mi lasciano le miei commenti, perché credo che uno, la facilità di esperanto, è l'equilibrio di consonanti e i vocali. In la lingua angliano, i vocali non significano molto. È un sonore non accentuato, perché non è un sonore non accentuato, ma non è un sonore, ma la hispana è tutta l'altra. Puoi parlare solo per vocali, perché diciamo che iam malaperi consonanti la hispana, ma abbiamo un libro che è più chiaro per l'esperanza. Mi voglio dire un commento, l'altra cosa hai. Via Cesla, buona voglia. Grazie. Grazie a tutti. Dependendo della grande demanda di qualsi giorni avevano per il corso, perché, in la prima prelezione di Ilona, si pensi molto in grave cose, tra le proverbi di esperanto, e se ci sono alcune delle proverbi di esperanto, o semplicemente bellissimi direzioni di un libro grave. E se ci si tratta di questo, perché ci si tratta di questo, perché ci si tratta di questo, 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 ci si tratta di un corso lungo, per esempio, e ricerciamo di quella che ha stood e quella come funziona la concezione delle proverbi adopting del modello per l'esperanto, perché, perазывai, mi interessa le videoterapia che funziona letteralmente se riempiva di un modo di essere un concetto per l'inter20stria, perché, mi interessa, ma non ci sono noi che possano fare in un nuovo corso e ci si tratta di un corso e spero che voi copiate le buoni esempi di fluparolanti, o di sia amici. La semuna valida per i complicati della grammatica, come possiamo vedere, cambiare, cambiare, se non si tratta di usare un'ebbile, ma spero che la prima che sia la loro progettività, se non si tratta di un'ebbile, ma non si tratta di un'ebbile, ma non si tratta di un'ebbile, ma non si tratta di un'ebbile per i gesti di un'ebbile. Grazie ancora. Laura, se vuoi? Speranto, chi havas la giustam pronunzion? Speranto, estes lingua di Civi, cae di me miu. Niestas gepatra lingua. Mia demando anche o estis, cae mi demandas al mimem, chi havas la giustam pronunzion? Ciu mi, chi havas la giustam pronunzion? Ciu mi, chi havas la giustam pronunzion? Vuistino, au ciudankan, chi vuoi stas o sonano, cae o angla, ecco, dopo. Ebbene, mi malunga tion dirus, che è male all'ethnolingbo, chi è la norma sas fixita, existas fonatic libroi, cae detale prescribas, chi en vi metto la langona, chi elvi formu diversa in suono, e nesperanto prefera estes iu negativa norma, che andi povas trovi in la libro di John Vance, lingvistica e aspecto, se oni ne povas recuoni la naziandevenon della parolanto, ciu estes buona parolanto, se oni faras differenzion inter diversi sonoi, ciu estes buona parolanto, e se la esperanta comunumo recuoni un personon che è buona parolanto, ciu estes buona parolanto, e componeble, per esempio, c'è accento, è clare se iu metas l'accento nella l'asta silabo, antaulasta, da tiu estes buona prononzo, ciu estes buona parolanto, 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 di Esperanto. Fernando, buon volevo. E poi Maria. Saluto a tutti, saluto a Milona. Mi sembra che in realtà aveva un altro problema, perché io continuo in cursos per idioma in Brasile, e anche quando ho visto in Brasile Esperanto questo è il contrario. Questo è il postulato riguardo al pronuncio, alla giusta pronuncio, che in realtà pronuncia la lingua quasi un robot. Perché non si tratta, non si tratta, non si tratta la lingua. Questo è il postulato non è normale, ma io penso che non è preferito che se fosse un messo, mangiare qualche sonata, consonante, vocale, o tutto le parole. Mi credo che questo è preferito. La parola era una parola, cioè la domanda di pratico. La parola era una parola che mi sembrava, e mi non voleva sapere, e mi chiedevo, e mi chiedevo, che cosa pensate per questo. In realtà, se questo è un errore, o no? Che cosa pensate per questo? Da, comparabile, noi ne devono i nostri proibili, noi devono lavorare in pace, instruire le cose, e, comparabile, la grammatica, la traduzione, e la pronuncio, quindi, ma anche noi devono attenti cominciare la parola. Cioè, se io, lernas io, mal buone, è molto più facile, questo è corretto. Quindi, da, più buone, se io, cominciare, quando è attenti con la gente, che non è questa via, l'influo del via, che la patra lingua, che vi pronuncia, stia, se dell'esperanto, che deve essere stia. Da, consti, l'influo del mondo, c'è questa differenza, cioè, ciò che fu i lieci, ne rimarca, quando è stato il glasso, pronuncia il glasso, ciò non è, però l'influo della Germana, ne dirò, è questa natura. Da, noi devono, per questo, cominciare, l'aula, e anche della gruppo, della livello, e, in più, trovi una buona proporzione inter la corretta delle cose. con Maria, poi vuole. Mi, tu mi povas diri, poi vuole, in Croato, non avevo problemi con il pronuncio, mi pensavo che non pronuncio l'esperanto, non puoi dire che questa è la più buona parola, però, e, anche, mi pensavo che, simile al, la esperanto che il Gidevus è, non è, non è, non è, non è, che, che, è, simile alla Croata, che, che, non è, non è, problema, è, la Croata lingua, non è, non è, non è, che, non è, che, è, 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 che, è, 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 che, è, 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 che, è, è, che, è, è, speranza, è, che, che, adesso aspettano, acc силare la pronostimazione delASI. Sempre, ci sono Ma dono che il fenomeno che uno ha potuto lì assimilare a questo lento, che appena in molte lingue, questo è il fenomeno di simileggio, che è quello che dice che è ancora in esperanto, dove non deve essere, non prepronunzare ec esempio, ma non è normale parole, se non è normale parole, se non è analizzato, registrita parola, da tia mi auguro esempio, da fatto è go e so, amba o stas voce soni, o absoluta, cioè in la vera absoluta, che è così, senza voce e più più pronunzare, è assoluta e normale, rapida parola, perché questo è un'ottima cosa che abbiamo parlato, e questo è un'ottima cosa che il fenomeno non scrive, perché un esempio in la pola è scritto per go, perché è tutto normale, se lì ancora in esperanto, inconducas la vorto per go, so, ca ne co, so, od oni ne devas trovi pronunci la sono in a parte, mi lunga occupidgis preparo sintezo, perché tia mi auguro, quindi non si realizzano la parola, quindi non si realizzano la parola, quindi non si realizzano la parola, ma non si realizzano la parola, ma non si realizzano la parola, la mia opinione. Sì, che vi scrive, vi devas scrive un esempio. Sì, sì, ci resamen tutti i alem conducis, no, tion ne volas non sangi, c'è ne tion estus più grande sangio, sed mia parola simple play of the sangias, tion. Tipo tion mi diras, che tion, che ne diras che uno litero, uno sono, tion, ver dire, ne estas 100% vera, ciare tion i processi di similigio ocasano, ciae, tion ne in ciui contextoi, la sama litero pronuncias, sama, in la normala, rapida parola. Yes, yes. On vuole, Duncan. Yes, mi consentas, che ne l'ona, efectiva, se ne diras, absoluta, am stato, absoluta, tu te ne estas, io comprendo problemo, cion, cion edo, tu estas relative natura, assimiligio, inter tiu i du consonantoi, mi anca consentas, che estas tre bone, atenti prononzadon, comence, porche, ne fossili igiu, tu estas la facca termino, cionem, ne fossili igiu, mal giusta prononzado, sed anca consigiu, che nun, laulanunai lingvo, a cirei teorioi, por multe lernantoi, la capablo conformigi, siam prononzon alla normo, farigas pli facila, io pli, oni auscultadas, bonain modeloin, do oni ne insistu, tro, comence, pri perfecta prononzado, char, io pli, oni audas la lingvon, des pli, oni povos, ausculti, la modelain sonoin, ciai conformigi, do tio, asas, alia afero, cionem, cionem, alportas la nuna lingva, a cira teoriado, cionem. Yes. Por iri alia parte de paroloi de Ilona, io voles paroli pritiu, tiocem, vidiris, che la influoi de Europae, etsoi, sur espranto estis, multe pli ol ali, aliai locoi, mi voles tion diri, che, cio estis tute natura, okazinta, cio alchar, Evropanoi pli verkis, pli utiligis, pli disvastigis espranto, dociam, ein Azeanoi, anka farut ion, ili enigos, sia in vorto, sia in dirmaniero, frazeologio, kai tel plus, kai mi, en eta, tre eta, skalut ion spertis, kai mi stas ion traducanta el mia literaturo, au miei kollegoi, i vidis lasta tempe, e caperis, ce in peto, floreio de sadio, estas mal nova, persa literatura, verko, kai mi ai kollegoi, estis, miei amico estis traducanta, ion, ili multon enigis en espranto, vroole ne voole, do espranto havas tion potenzialon, tion infrastrukturen por, al sorbi, cune, kian ein, ver dir manieron, kai tel plus. Ia, sed, efektive, cunem, espranto havas inklusivan kulturen, kiel, old, iam, diristion, kai, ensucias, culturajo in diversas lingui, sed, mi simple, montras, que momente, ancora, o la Europa influo, estas, pri granda, kai, ser, pri grandijos, la influo, de, asiai, lingui, anca, o tiam, tiu, fraseologiajo, etiopovas, sed, la base semantica, sistema de esperanto, iam, estas fixita, d'exemple, gestos, arbo, cae, ligno, cunest, tiu, differenzo, tiu, iam, nesanjijos, do, kiel, la lingvo, fact, segmentas, la mondon, kiel, un, diras, au kiel, la lingvo, etikedas, la mondon, persiai, vortoi, tiu, iam, estas, farita, kai, tiu, estas, europeza, sed, la, esprimoi, fraseologiajo, tiu, povas, pririci, tiu, Cioè, quando vi leggo la Cina, vi sento che è la Cina. Cioè, non è, mi leggo la Cina per lungo, ma vi sento che è la Cina, cioè la struttura della frase, è la Cina, non è la poltica. Sì, effettivamente, Esperanto sia una flexibilità, permesso che noi trascendiamo diverse strutture. E mi continuo dire, se mi preleggo a noi Esperanti, che questo è un grande avvantaggio di Esperanto, che noi, come la lingua parolante, devono adattare la lingua. Cioè, io cazzo di etnale lingua, ma la lingua adattisce al me. Mi potrei molto bene esprimere la mia propria pensata, la mia propria cultura. di esperanto, che questo è un'altra lingua. E io voglio dire che è una parola spritia, che è un'esprimazione, che è un'esprimazione, anche in diversi lingui. Immaggo che diversi etnolingui invenuano in esperanto diversi dirmaniero, fraseologio e tal. E di esperanto, di nuovo per di esperanto e diversi lingui esperantistui, si provano spiegare in etnolingui. Dio vero riciclo, esperanto e etnolingui. Ora, ci sono altre domande o commenti. Non mi voglio leggere quello che scrivete Fernando in Babilia, che la nuova professione, che non aveva parlato in una lingua di nascosto, sono le scopi. In Babilia racconta più scibolezza e scibolezza, e si può distinguere la spionata per la giusta o mal giusta pronuncia. Mi aveva salito un commento in generale, perché mi parola non più pronuncia, è interessante domande per le più semplici grammatiche. Mi memoria che in step by step, in questo è il vero di Montegui Butler, che usano molti anglo-lingu, wasPLvisioni con loro, ma non rana e quando vediamo i altri Gedim pochi, si scopi. E quindi, che lo problema con questo è, è che abbiamo sampito di farvi ripensare semplici. E così tipo ma non vedi le sui lucibino, ci provano una grande parte della lingua, per avere un rapporto nelIE o aver inattamento con gli ud Winfetti. E mi ricorda che molti angloscianti proprio credono che quando si conduzono, c'è un semutile balastro in la lingua, e automaticamente resistono. E mi pi favore di cominciare in la prima lezione. Salute, buona giornata, è tutta la natura parte della lingua, alcuni alcuni migliori del comienzo. C'è anche interesse per la transitività, che mi memoria a che è voluto cominciare il problema che mi insegnava ogni e ogni solo in posti lezioni, e mi diceva che mi insegnava che mi insegnava la prima lezione. Poi, mi possono avere diverse opinioni per questo, ma mi preferisco presentare una lingua più autentica, in linguaggio, e non chiarificare, che è in questo stile. No, c'è già dal comienzo, ma anche noi facciamo qui, perché noi facciamo più accettare i chiarificazioni dopo la facciamo qui. mi hazzate mi fatti lernis espranto in persama libro stepa estepene espranto mi verene attentis per teokio invidiris di stiu se steg o capace nessis accusativo tamen cebim volo diripri la persa lingua qstas en europa lingua fatti accusativo estas tre faci la cerni havas en la persa anca pronanz rilate cio en espranto estas en persa anca ho la nura aferro cio iom malfaciligas estas tio che quelcai dua o tri consonanto estas unu celalia tio neniamo casas en persa tio nu estas aferro cai mi en mia elementa claso ciam comence multe insistas aferro giusta cai accento cai buona pronunzado cai ciel tanken diris cai vivni credas che buona lernado unu estas multe pli efica ecce temporaba ol poste farei correcti la eraroin ne fossi dicinta in tau tiro di tanken yes carlos bon vole saluto mal chiui mi havas quelcai comentoin se te eble e sperae eble mi e estu comprenata do la umi estas grava aferro che lernando e instruisto e deba studi e omete la internazia fonetica en alfabeto non ce ne porque oni comprenu la malsamon inter nazai vocalo e nazai e consonanto i problemi ca eble zo ca i so mi mi ancora ho havas problemi pritio sed miclopodas miclopodas tivo nigition char en mia denasca lingua oni ne havas la zonon zo e qui il robot cio paroli cio paroli cio roboto protio oni debas la limo estas tre mal grande inter accento cai accento chune do oni debas eble sorgi pri l accento sed netro multe pri l accento cai estas la ferro por oni ne sonus e qui il robot se se oni permessas la accento de la accento de la parolanto chune cai gies mi 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 samopinias que oni debas instrui acusativum de la comenzo de la comenzo en mi con miai lernanto e ni studas ciam oni comenza studi verbo i ni jam risorgas vi la differenzo inter transitiva e cai netransitiva e verbo i cai tiel oni instruas unue esti sed oni am sias que tio es que estas netransitiva verbo i cai poste javi cai oni pripensas pri la differenzo intre esti cai javi tio estas jam de la comenzo de la curso cai ili ah oni personas acusativum ciam la verbo estas transitiva cai ili mi mi invitas al miai lernantoi cai ili crei listoin tiiu verbo estas transitiva tiiu verbo estas netransitiva cai ni faras eh tiel la 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 instrua estas mia comenta vescaine vi habas lernantoin au studentoin alla universato chiui in facte conas estas transitiva verbo estas transitiva cai internazia fonetica alfabeto se estas studentoi cionel cia eri studas lingua e ri studas lingua in vi povas tion fari sed cun iu gruppo de meritoi ciu iam delunge forgensis grammatica e nozio in vi ne povas paroli pri accusativo e transitiva e transitiva e so vi ne povas paroli cai nek pri internazia fonetica alfabeto domi diras tion cion per cia ni povas instrui ca e cia da transitiva e so da verbo estas grava ferro sed mi ancora autentigas ca estas aliai reakcioi della verboi kiui ancau estas grava e ca ni devas pensi ancau pri ili do exemple pensi francoi diros ca mi pensas al cai ti esas tipa francismo car pensi a sed en esperanto ti esas pensi pri do la reakta obiektu estas unuella eblai complementoi della verbo quankam la plei grava sed ni devas ancau pri la aliai attenti cani bone uso ilin e unu manco c'è piv faktestas tio c'è ne montras eccevi legas pri ti av alia verbo la tutan texton ec kun ciu egzemploi vi ne comprenas ke kun ciu verbo vi devas vi utili povas utili giciu in preposizioin love me only devas tion pol ciu i verboi edis eblemeti bole dovversainen in leplu havas temponcile cernyam e plioru nuvoron discutiscai e tion fonetica flanconi prima pri paroliscai pri paroli la tutan sistemon de esperanto kaila mal faci la da instruadot io da zonus tutan tagon se ne stas aliai abratiamni devus ciu ne ciu ne disputon se stas iu alia ciamina vidas ciu in mia ekrano se stas ancora commentoi au demandoi bon vole sene mi povas adiavi kai mi antautio desiras el core danki al profesoro idona kutsmi kai ciui alia cestantoi kai prola demandoi con la buon ai utillai commento i